Musica Ma chi sono questi rui? Che buono! Volontariato! Che cosa inutile! Ma che serve? Per se stessi! Per gli altri! Ah ok! Aiutare il prossimo! Mmm! Si può fare! Il prossimo potrei essere anche io! E mo? Con me c'è questo solidale! E che re? C'è ce l'ha spiegata! Mamma mia! Criature di undici hanno caffate che ne rinde più andaggione cacare! Potesse essere frate! Non tutto quello che mangi nasconde processi giusti! E quindi? Noi ho potuto me raccontare! Oh vero! Ci sono processi più edici! Prodotti locali! Biologico! Giustizia sociale! I diritti del lavoro! Non al lavoro minorile! Eh! Si può fare! Mi piace! Si può fare! Mi piace! Mi piace! Mi piace! E muvimmi ci allora! Si! Muvimmi ci! E adicine sei tu! E muvimmi ci! Grazie a tutti.